Buongiorno, benvenuti con questa rassegna del 18 febbraio. Vi avverto come sempre che è una specie di avvertimento, minaccia, che questa sera è lunedì e quindi alle 21.30 ci sarà Quarta Repubblica. In prima serata sulla quarta rete, cioè su Rete 4, quindi non mancate. Che cosa è successo sui giornali? Beh, oggi i giornali sono ovviamente monopolizzati dalla vicenda della nave 18, che semplifico in maniera molto banale. La nave 18 vede oggi indagato il ministro degli interni per sequestro di persona, rischia da 3 a 15 anni, fino a 15 per l'aggravante che è un pubblico ufficiale e che c'erano dei bambini a bordo. Si sono autodenunciati con lui anche il presidente del Consiglio, il ministro dei trasporti Toninelli, il vice premier Di Maio. In realtà però non è ancora successo nulla, se non la richiesta di autorizzazione a procedere, che il tribunale dei ministri, cioè 3 magistrati catanesi, hanno chiesto, nonostante la procura di Catania avesse chiesto l'archiviazione. Quindi il tribunale dei ministri vuole processarlo, la procura non lo vuole processare. Oggi si dovrà decidere su una piattaforma informatica che si chiama Rousseau, se gli iscritti al Movimento 5 Stelle vogliono o no che si processi Salvini. E quindi se dicono che vogliono che si processi Salvini, i rappresentanti del Movimento 5 Stelle in giunta autorizzazione a procedere, sono 7, dovranno votare per il procedersi. E qui si apre una grande bagarre politica, fatta questo a primo riassunto. La prima bagarre è tecnica perché oggi il sistema Rousseau è andato in tilt pochi minuti fa. Ma la grande bagarre politica è che c'è una parte del Movimento 5 Stelle, quella del fake quotidiano, quello di Travaglio, che in maniera esplicita vuole che il Movimento 5 Stelle voti a favore del procedimento contro Salvini. E Travaglio lo dice esplicitamente oggi sul fatto, l'ho detto ieri, l'ho detto nei giorni scorsi, dice o il Movimento 5 Stelle vota per il suicidio e il Movimento 5 Stelle sta votando per il suicidio e il Movimento 5 Stelle ha l'onere i suoi iscritti di votare per l'autorizzazione a procedere, se no il partito muore. Questa è la tesi di Travaglio che è suffragata da tre lettere identiche nel contenuto, nella sostanza scusatevi, che sono fatte da tre sindaci che sono la Raggi, l'Appendino, scusatevi, e Nogarin, cioè Livorno, Torino e Roma, che dicono siamo stati tutti e tre indagati, vi dovete far processare come noi dicono i tre sindaci. Insomma un cazzotto nella pancia degli elettori del Movimento 5 Stelle che leggono ovviamente il fake quotidiano e che quindi molto probabilmente voteranno in questa maniera, anche se qualcuno come il giornale oggi con un pezzo fravoloso di Del Vigo dice il referendum truffa, per dire sì, infatti, per dire sì al processo bisogna votare al referendum del Movimento 5 Stelle no. Quindi quando dice Francesco Del Vigo i giochi si fanno duri, i grillini iniziano a barare, cioè è talmente incasinato, già il casino, la vicenda, eccetera, che anche il referendum, dice Del Vigo, è molto incasinato. In una serie di colloqui fatti dalla Sardegna dove è in campagna elettorale, Salvini fa capire che se dovessero votare per l'autorizzazione a procedere a lui qualche problema per il governo ci sarebbe. Buongiorno a Gerardo che vedo che si è collegato in questo momento. Un'altra storia di giornata, c'hanno tutti i giornali, è l'intervista a Mahmood che però abbiamo letto tutti, il vincitore di Sanremo, è un ragazzo, mi sembra molto carino e tranquillo, che è vissuto ed è nato nella periferia di Milano, abbandonato dal padre egiziano a cinque anni, questo suo turbamento e questo, diciamo, insistere nei nostri giornali sul fatto di essere un emigrato, senza padre, arabo, non arabo, insomma i giornalisti vogliono attribuire a lui quello che lui non vorrebbe attribuire a se stesso. Mi sembra chiarissimo in tutte le interviste, Repubblica, Corriere, Messaggero, in cui oggi Mahmood si è trovato coinvolto. La storia incredibile di oggi è questa vicenda sul fatto di obbligare le radio, secondo un disegno di legge a prima firma deghista, Morelli, ex direttore di Padania, scrive che le radio devono trasmettere obbligatoriamente un brano su tre in italiano, altrimenti rischiano di essere chiuse. Un disegno di legge non è stato ancora provato. Cosa è questa? Una gigantesca, enorme cagata. Obbligare un'impresa privata a trasmettere quello che decide un politico sulla razza, sulla nascita, sulla cittadinanza di chi trasmette la cosa è una roba da impazzire, mi fa venire il sangue al cervello su quanto è stupida. Oggi mi sembra che la Repubblica Cataldo ricorda che questo vive sulla nascita di una legge francese, la Toubon, pare che si chiami, che prevede la stessa cosa per le cose francesi. Non copiamole su queste minchiate i francesi, no? Cerchiamo di evitare di copiare i francesi, li critichiamo sulla 18, sui confini, eccetera, poi li copiamo sulle cose peggiori dei francesi. Ma la cosa fondamentale sul fatto di una canzone su tre è che già avviene. Oggi bastava leggere l'intervista a Linus che dice guardate, nelle nostre radio già una su tre è italiana, anche più di una su tre è italiana. E poi l'altra cosa che mi viene da ridere con tutti questi giornisti, è la seconda parte del commento, tutti i giornali italiani dicono ah, questi cafoni di leghisti sono dei cazzoni se pensano fare questa legge, l'avete capito come la penso? È una legge assurda, una radio privata fa come gli pare, un ripetitore privato fa come gli pare sulla musica e sull'arte, non ha un senso definire nazionalità. Questo è il vero razzismo della testa, della stupidaggine, soprattutto perché già in Italia noi oggi ci ascoltiamo. Ma la cosa che mi fa venire quasi più rabbia è che qui stiamo criticando i leghisti cazzoni che fanno legge cazzona e soltanto un anno fa il Franceschini, che piace a tutti, piace a Repubblica, va con Veltroni a vedere le prime decine, ma ci fa due palle così sulla cultura italiana, ha fatto una legge identica se non peggiore, ha proposto una legge per la quale le prime visioni, per cui Netflix, Amazon Prime, Sky e la minchia che lo porta appresso, devono fare almeno una prima serata italiana di fiction o di film alla settimana. Il principio non cambia, è identico. Allora se lo fa Franceschini non è un razzista, se lo fa il boro leghista con le corna è un cornuto. Sono tutti due cornuti, la legge sbagliata chiunque la pensi, sia sulla televisione sia sulla radio, ma questa posizione liberale capisco che non interessa a nessuno. Mentre un po' meno liberale è la posizione che giustamente io, anzi lo è totalmente liberale, anche se qualcuno dice che questa è una posizione fascista, mentre una è totalmente liberale, è totalmente antifascista la mia posizione, e cioè che se uno entra a casa mia e vuole rapinarmi, io ho il diritto di difendermi come meglio credo. E il fatto che oggi, lo ricorda Luca Fazzo sul giornale, ci sia un imprenditore del Padovano che entra oggi in carcere, 4 anni di carcere, perché ha sparato una banda che ha cercato di rapinarlo, e dopo 8 anni viene condannato in carcere a 4 anni, mentre gli assalitori si sono beccati 10 mesi perché hanno patteggiato e già sono fuori, e dopo quella rapina ne ha ricevute altre 13, beh, questo signore che va in carcere è un obbrobrio della giustizia italiana, non me ne fotte nulla che quello ha sparato, tra l'altro ha sparato a uno che ha cercato di derubarlo, che oggi sta benissimo, non l'ha ammazzato, non l'ha ferito gravemente, oggi sta benissimo, si è fatto 10 mesi neanche di carcere, lui se ne farà 4 per aver sparato, dopo che per 20 volte hanno provato a rapinarlo. Vi sembra un paese normale questo? Io penso che sia allucinante, tutto quello che volete sapere sull'altra follia delle tasse sulle auto ecologiche, cioè sulle auto non ecologiche, che una tassa sui poveri la trovate sul sole 24 ore, Macron sale nei sondaggi, ci racconta un reportage, un po' di parte del foglio, la sua remontata deriva dal fatto che lui fa degli incontri locali, che si chiamano, come si chiamano, me lo so scritto qua, dei grandi dibattiti nazionali per cercare di recuperare il consenso della gente. Tutto vero, sicuramente li starà facendo bene, grande elemento di democrazia, però uno potrebbe alzare un po' il ditino al foglio e dire, scusate, allora un problema c'è stato quando voi dicevate che era una specie di mito e perdeva consenso, forse si sta un po' riprendendo, forse sta cercando di riprendersi dagli errori che aveva commesso nel passato, non è che può passare tutto così. Bernhard Lille e Vick è uno che è talmente cazzone e talmente, come possiamo dire, è sopravvalutato, lo conobi in una vicenda quando ero in Rai, che gli feci fare insieme ad altri una giornata per ricordare un massacro di un ragazzino ebreo nelle ballie francesi, ed è un pallone gonfiato. Oggi quando senti sul tempo, intervistato dall'ottimo Franco Beckis, che ci spiega che il futuro dell'Italia è Calenda, Renzi e il comandante De Falco, capisci che io lo relegherei al modello delle sue camicie, cioè se vuoi fai fare delle per coin, per cenci, per il vecchio Battistoni, potevai fare il modello e lo metti là con queste camicie che lui sembra allacciarsi come nessun altro al mondo. Ultima cosa straordinaria, Cardenal era un sacerdote che fu bacchettato, che mito che era Voitiva, perché era diventato ministro del governo di Ortega in Nicaragua, un po' sandinista, sostanzialmente un comunista sudamericano, l'inizio della grande teoria della liberazione, insomma gente con cui la chiesa ufficiale non voleva avere nulla a che fare, tra l'altro Voitiva non voleva che governassero tre preti gesuiti in un governo dei socialisti, lui che il socialismo lo conosceva bene. All'aeroporto si vede questo prete che si inginocchia e Voitiva gli fa prima devi far pace con la chiesa, prima che con me. Sostanzialmente poi lo bacchettano definitivamente da parte della chiesa, un Voitiva che aveva veramente, come si dice, un senso della storia, un senso di quello che lui aveva fatto in quel momento nella caduta dell'impero del male, cioè quello dei comunisti, viene riabilitato, povero, in ospedale, 94enne, Cardenal da Francesco. Non so se sia giusto o se sia sbagliato, il perdono fa parte della cultura cattolica, ma è talmente grandioso il gesto coraggioso di Voitiva contro la sciocchezza della liberazione che oggi la riabilitazione di Francesco passa in secondo piano. Questa sera, questa sera, su Rete 4, Quarta Repubblica, sperando di essere un pochino... Ecco, il Cardenale, il Cardenale perciò a questa Papa, e ci vediamo questa sera con Quarta Repubblica. Ciao! Come si spegne qua?